Ho visto tutti questi impegni ravvicinati, ora c'è un momento di sosta, se va comunque con serenità, con soddisfazione, qual è anche l'atteggiamento di questo mini break che c'è? Sì, noi abbiamo fatto qualcosa di incredibile in questo periodo, sono capitate partite straordinarie, io credo che oggi questo punto proprio perché alla fine di un ciclo di partite impegnative sul piano tecnico, tattico e anche mentale, soprattutto, e anche fisico, ci arriviamo sereni, insomma abbiamo fatto un bel periodo, ci prendiamo anche questo punto che sappiamo che è un campo difficile, con una squadra in questo momento anche particolarmente in saluta, anche in autostima, quindi abbiamo bisogno di questo periodo di staccare un po' e poi si riparte con la stessa energia. E un commento anche sulla doppietta di Gomez?